Luca, una vittoria che forse vale più dei tre punti che avete tenuto stasera per tanti motivi, la capacità di recupero, la capacità di soffrire, di venire anche a campo in una partita che non è la semplice. Sì, ci sono tante cose sicuramente da analizzare, noi in campo secondo me abbiamo giocato bene, ci siamo stati in tutti i frangenti, dall'inizio dei set fino alla fine, tanto merito va a noi credo, loro hanno giocato una buonissima partita, era veramente intensa, a un certo punto il punto a punto sembrava quasi non essere più abituati, bella, siamo divertiti. Secondo posto che non può più essere una sorpresa dopo quella che avete fatto nel primo giudice di giornata? No, diciamo che i punti e il campionato hanno parlato e siamo veramente fieri di essere dove siamo, ci sarà la prossima partita sicuramente cruciale, importante e ovviamente è soltanto una mini parte della stagione, ma la strada insomma è questa. In molti fondamentali forse Modena è stata migliore, ricezione, muro, eppure Trento ha chiuso 3-1. Sì, credo che loro abbiano difeso tanto, più di noi, ma noi siamo stati molto lucidi nei momenti decisivi a gestire l'attacco con questi tocchi altissimi, quindi bravi noi.